macchina che va via al comando Romelias l'errore è anche Rebecca Hans e quindi Romelias al comando delle operazioni Romelias ancora il 3 di Renoir Rab poi Racines, poi ancora Rea Silvia Est e quindi al comando Romelias su Renoir Rab poi c'è ancora il numero 13 di Rea Silvia Est che viene via quindi Renoir Rab che è abbastanza lesto per marcare l'avanzata del numero 13 ci pensa Romelias comunque a tenere un po' Renoir Rab ma Renoir Rab passa al comando quindi Renoir Rab al comando nei confronti di Romelias poi c'è ancora il numero 13 Rea Silvia Est quindi c'è Rondò de Fiori che segue poi Racines quindi Renoir Rab, Rea Silvia Est ancora Romelias, poi Rigoletto Rab che cerca la scia di Rea Silvia Est e intanto in avanti è lotta fra Rea Silvia e Renoir Rab poi ancora Romelias, quindi il numero 15 di Rigoletto Rab che viaggia a largo di Racines passa Rea Silvia Est su Renoir Rab quindi in avanti è Rea Silvia Est ancora Renoir Rab poi a largo c'è sempre Rigoletto Rab su Romelias in avanti Rea Silvia Est Rea Silvia Est che prova ad allungare da Renoir Rab poi Rigoletto Rab che si fa sotto e quindi Rea Silvia Est, Renoir Rab Rigoletto Rab, quindi Romelias in avanti Rea Silvia Est Rea Silvia Est che controlla sempre la situazione in avanti nei confronti di Renoir Rab Rigoletto Rab che cerca di ricucire il gap in avanti Rea Silvia, Renoir Rab che si prepara per lo spunto quindi Rigoletto Rab a seguire in avanti Rea Silvia, Renoir Rab che rinnova gli attacchi quindi Renoir Rab all'attacco di Rea Silvia Est in avanti Rea Silvia, Renoir Rab a largo poi Rigoletto Rab ancora Renoir Rab che passa Rea Silvia Est quindi Renoir Rab che è passato Renoir Rab che allunga con estrema decisione da Rea Silvia Est che lotta con Rigoletto Rab Renoir Rab che chiude la partita e vince su Rea Silvia, terzo posto per Rigoletto Rab in avanti Rea Silvia Est